Avevo pensato anche di pulire qua, perché veramente non sembra neanche casa mia qui, e quindi sinceramente è una cosa che rimanda, 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 adesso ho capito che va sistemata anche qui, ho fatto un negozio dove ci sono articoli per la casa, per parte questo e questo, ho preso queste due cestine con i coperchi e queste, ora smettiamo su all'opera e mettiamo tutto a posto, veramente questo è uno sportello che non apro mai, cioè apro tutti i giorni ma veramente non mi era accorto di come potrebbe divenire un ambiente così e non va bene, per niente, allora questo era un supporto che avevo comprato con D-Mail, purtroppo è rimasto un po' macchiato, ora ancora c'è un po' di schiuma, perché non mi vanno via per bene queste macchie dal ferro, allora decisamente molto molto meglio, adesso ci sono tutte le spugne, i sacchetti dell'immondizia, le sacchettine, le vinificate, il secchio e qua è tutto al posto giusto, nuovo che si è aggiunto oggi e ora piano piano finisco questi della Stenum e voglio anche provare i prodotti della Winnis per salvaguardare un pochino di più l'ambiente, vai, fatto, sono molto contenta! A presto! 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 A presto!